Sesta corsa premia la dolce vita, il sottoclou del convegno di oggi con i quattro anni impegnati sul doppio chilometro ad inseguimento in sei allo start. Prima fila 1, Foria Rock, Antonio Greppi per Enrico Bellei, 2 Elsa Rossinelli, Fabrizio Ciulla per Giuseppe De Filippi, 3 Eliana Jet, Vincenzo Gallo che sostituisce Filippo Gallo per Saverio Gallo, 4 Enetab, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, 5 Charles Magic, Gaetano Di Nardo per Michele Di Maro, seconda fila del primo nastro, 6 Ecstasy, Federico Esposito per il Tingo Ciadoro a 20 metri, con il 7 Emili, Enrico Bellei. Valido il primo segnale in tre a lottare per il comando, Eliana Jet, Enea Tav, Charles Magic che si accodano all'avversaria. All'esterno c'è Ecstasy con all'interno Elsa Rossinelli e poi Euphoria Rock con vicino già la penalizzata Emily. L'errore di Elsa Rossinelli dopo 350 metri di corsa, mentre Eliana Jet completa il primo quarto in 29 scarso e doveva subire ora il forcing deciso di Ecstasy che attacca a fondo, gradatamente mette qualcosa avanti all'avversaria, i 600 in 44 e 4, 14 e 3 di ultima frazione. Ecstasy che insiste e di forza passa su Eliana Jet, Enea Tav segue terzo davanti a Charles Magic, Emili ed Euphoria Rock con Ecstasy che dopo aver superato di forza Eliana Jet sembra intenzionata a proseguire al ritmo sostenuto. Nonostante questo, Emily avanza all'esterno, intanto il primo chilometro in 1, 14 e 4 con avvio da fermo, ma Emily riesce a risalire e a puntare in avanti per giungere rapidamente al lato di Eliana Jet che segue sempre Ecstasy. E Emily insiste, va all'attacco della battistrada, Eliana l'errore nel frattempo per Charles Magic che cercava di progredire in scia all'attaccante. Il ritmo si mantiene elevatissimo, 1, 43 e 2 quando si va al paletto dei 500 finali con Ecstasy ed Emily in chiaro vantaggio su Eliana Jet, Enea Tav ed Euphoria Rock. Il miglio completato in 1, 56 e mezzo da Ecstasy ed Emily in aperto dibattito, più indietro tutti gli altri con Ecstasy all'interno che cerca di sottrarsi a una strepitosa Emily e le due sono ancora testa a testa quando mancano 180 metri al traguardo, Ecstasy all'interno, Emily a largo, gli altri con Enea Tav che sembra emergere al terzo posto, Ecstasy, Emily che cerca l'ultimo attacco ma Ecstasy si difende, Emily anche una piccolissima incertezza e Ecstasy vince con pieno merito mentre probabilmente sbaglia in zona proibita proprio Enea Tav e terza potrebbe essere Euphoria Rock tra l'altro autrice di ottima prestazione essendosi avviata molto male con i nastri 2, 26 e 2 sul mio cronometro da start a start per Ecstasy e se quindi Ecstasy si sarà espressa nell'ordine dell'1, 13 e qualche cosa sul doppio chilometro immaginate cosa sia stata capace di fare Emily che Dimetri ne rendeva 20 alla vincitrice 6, 7 e poi dovrebbe essere l'1 al terzo posto dopo l'errore in zona proibita di Enea Tav e infatti così è, 6, 7, 1 e la linea che torna ad Andrea Zanoboni 6, 7, 1 e la linea che torna ad Andrea Zanoboni 6, 7, 1 e la linea che torna ad Andrea Zanoboni 6, 7, 1 e la linea che torna ad Andrea Zanoboni 7, 1 e la linea che torna ad Andrea Zanoboni 7, 1 e la linea che torna ad Andrea Zanoboni